Vedete anche che c'è una bella giornata, ci sono anche persone che sono fuori e guardate anche qui dietro di me c'è scritto che il Signore Gesù è la via, la verità è la vita e grazie a Dio per questa bella giornata anche oggi sono arrivate varie persone per l'ascolto, l'ascolto della parola di Dio. Ci sono anche queste persone che sono qui presenti, abbiamo letto dal Vangelo secondo Marco la parabola dei vignauoli malvagi, dei contadini malvagi che hanno ucciso i vari mandanti del proprietario della vigna e alla fine hanno ucciso anche il suo figlio. Era tutto simbolico di come il popolo di Dio aveva rifiutato i vari profeti e quando il Signore ha mandato se stesso, cioè Dio è diventato carne e hanno ucciso anche il suo proprio figliolo. È stata fatta la preghiera di accettare il Signore come salvatore personale, vediamo se tra le varie persone c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare, alzi la mano!